Fritz Huntea nasce dall'idea, dalla scoperta di come Fritz Lang lasciò la Germania nazista perché gli venne fatta questa proposta da Goebbels in persona, allora ministro della propaganda e della cultura del Reich e lui finse di accettare, in realtà scappò la sera stessa, proprio la notte stessa solo che lui all'epoca era ancora sposato con Thea von Harburg, che era sua moglie ma era anche una scrittrice, sceneggiatrice quindi mi sono un po' immaginato come poteva essere andata questa ultima notte insieme perché sì, erano sposati, quindi si saranno detti qualcosa, la storia non ce lo dice ma questa è la cosa che mi ha stimolato proprio perché la storia non ce lo dice, pensiamoci, inventiamolo forse e quindi da lì poi vediamo tutta la storia di come si sono conosciuti loro quindi è un viaggio a ritroso, come un film riavvolto, perché il film di bello a questo che la vita non ha invece il fatto di potersi riavvolgere ed essere rivisto, di cui anche il titolo Auf Wiedersehen Arrivederci, nel senso Arrivederci Arrivederci